Fabio Trezzini Abbiamo avuto modo di lavorare anche attorno a queste proposte normative sulla limitazione del consumo di suolo. Volevo semplicemente fare due brevi considerazioni, due brevi ragionamenti ad alta voce, ma veramente molto telegrafici e per flash appunto. Dall'evento di oggi, da questa presentazione estremamente interessante e stimolante, emerge un fatto apparentemente scontato che però poi deve informare di sé la pratica e l'operatività. E cioè che il suolo è un fattore ambientale complesso, è stato detto multifunzionale, eccetera, eccetera, non segmentabile e che quindi necessita di un approccio tecnico-scientifico innovativo, integrato, e che quindi deve essere debitamente organizzato. Per far questo è necessario migliorare la conoscenza e la diffusione della conoscenza. Quindi è necessario che tutti i soggetti pubblici e non che operano e che maneggiano dati, informazioni, non siano in competizione ma si mettano finalmente in testa di collaborare diffusamente per arrivare quindi a produrre dei prodotti appunto da mettere a disposizione della collettività. La quale collettività ha bisogno di conoscere e di ricostruirsi una conoscenza sui fenomeni. Più volte abbiamo detto, ci siamo detti fra addetti ai lavori, che la percezione stessa della limitatezza delle risorse, delle esigenze, dei ritmi della natura e quindi dei fenomeni naturali è purtroppo ormai persa e quindi non siamo più abituati a ragionare in termini appunto di suolo come risorsa finita, di acqua come risorsa finita, eccetera. E quindi da questo punto di vista dobbiamo arrivare all'esigenza di aggiornare la nostra governance. Oggi parliamo di sistemi sofisticati da migliorare, da integrare, da perfezionare, di analisi e conoscenza del territorio. La governance è rimasta quella di 150 anni fa e quindi da questo punto di vista dobbiamo deciderci a riformare, ad aggiornare il nostro sistema di governance. E da questo punto di vista credo che non tutto quello che va sotto il tema della semplificazione e della riduzione sia di per sé positivo. Per cui probabilmente, parlo ovviamente da parte in causa, insomma ripenserei anche un attimo la politica di tagli comunque delle risorse del settore pubblico. Qui credo che oggi venga fuori il fatto che c'è bisogno di strutture pubbliche che funzionino bene, che abbiano la possibilità di rinnovare il proprio personale. Il Ministro dell'Ambiente, lo dico per i pochissimi che non lo sapessero, ha visto negli ultimi anni, come tutti sappiamo, una riduzione clamorosa di risorse, ma non è tanto un problema di fondi quanto proprio anche un problema di risorse umane, di qualificazione, di rinnovamento, di turnover che viene di fatto impedito. Un'ultima osservazione, anche questa telegrafica, il consumo di suolo, abbiamo visto in Italia, è un fenomeno estremamente rilevante, che porta a conseguenze negative da molti punti di vista, dal punto di vista del dissesto ideologico, è stato più volte ricordato, ma non solo dal punto di vista dei costi di trasporto, costi energetici e via dicendo. I numeri che sono stati qui, anche se sia pur sommariamente descritti, però rivelano una verità fondamentale che credo dobbiamo tenere a mente nel momento in cui ragioniamo di questi argomenti, cioè che questo consumo di suolo abnorme, superiore alle medie europee, è reso possibile da un insieme di strumenti di pianificazione che non sono adeguati. Il problema è di capire che gli strumenti di pianificazione urbanistiche e territoriali di questo Paese devono essere rivisti. Grazie Fabio, tanto per ricordarlo, lui si è chiesto di presentarsi, ma Fabio Trezzini, lo dico sempre e lo ripeterò sino all'infinito, è stato quello che è entrato un giorno in una stanza dopo Sarno ed ha avuto l'idea e la forza di portare avanti il discorso della perimetrazione delle aree a rischio. Dobbiamo a lui l'ideazione di quel momento, non ce l'ho davanti agli occhi, quindi nessuno me lo può cancellare, siccome sono un testimone visivo. E l'altro, prima citando il discorso ad Anna Luise, anche con Fabio abbiamo fatto un percorso sulla desertificazione, così intuitivamente in un Paese che era sordo, sordo neppure, non aveva la conoscenza, un po' lo stesso discorso che facciamo adesso, sarebbe sbagliato attribuire delle colpe, era l'inizio di un percorso avanzato che in qualche modo d'avanguardia, che allora oggi si pone quasi nella slide come boxettino, ma allora era un discorso diverso. È bene ricordare queste cose perché se no si ricorda la matrice di un passato che anche ha posti problemi per disegnare un futuro diverso, quindi questo è importante. Io direi, chiedo ai miei di Ispra di non intervenire, in questo momento abbiamo fatto parlare tutti, queste sono delle agora in cui Ispra, attraverso anche i suoi elementi designati, si rapporta con l'esterno, tra virgolette, che lo sentiamo molto interno, però dobbiamo lasciare spazio agli altri. Siccome siamo a conclusione e la sala ci è stata concessa e vorrei chiudere entro le 13, darei sostanzialmente la parola a tre dice qualche cosa a Andrea Sisti, presidente di CONAF. Grazie.